Vuoi trasformare il 2019 come il miglior anno a livello di rendimento professionale? Beh, lascia che ti spieghi chi sono e perché ti dico questo. Sono Ilaria Cella, fondatrice di Consulting That Really Works, una boutique di consulenza internazionale strategica aziendale dove aiutiamo le organizzazioni ad aumentare fatturato e profitti in modo rapido ed esponenziale, così che le persone che ci lavorano abbiano più tempo per dedicarsi alle cose che amano fare. Bene, è tempo di bilanci perché l'anno sta per terminare e come ogni anno ho fatto quello che è il punto della situazione e ho visto che anche quest'anno, come almeno negli ultimi 5 anni, i risultati che ho ottenuto sono stati superiori a quelli che era il mio programma. Lascia che ti faccia qualche esempio di risultato. Beh, mi sono staccata dal mondo aziendale della multinazionale e ho fondato la mia società. In pochi mesi sono andata in attivo e ho superato quelle che erano le mie provisioni di fatturato per quest'anno. E gli anni scorsi? Beh, lascia che ti spieghi. Ho portato un'azienda famosa ad aumentare il 30% di fatturato nel giro di un anno. Ho portato un'azienda che non era famosa ad essere famosa, ad avere un posizionamento, era un'azienda che non era presente nel mercato EMEA, Europa, Medio Oriente ed Africa e l'ho portato ad essere presente in tutte le nazioni. Anche questo in meno di un anno. Ho corso una maratona preparandola in meno di due mesi. Beh, insomma, se questi sono risultati che ti piacerebbe conseguire, ascolta il perché li ho raggiunti. Mi sono chiesta quale fosse il segreto e il segreto è unico. Un piano strategico che faccio annualmente su tutto l'anno. Ancora prima che inizi l'anno faccio il piano di come disegno l'anno che verrà, come lo voglio vedere, i risultati che voglio veramente vivere e mi chiedo e metto le strategie come raggiungerò quei risultati. Capisco che la pianificazione per molti è una cosa, un concetto un po' nuovo. Tanti non sono abituati o comunque che richiede del tempo. Bene, ti dico questo, che in un giorno, domenica 16 di dicembre, andremo a fare il tuo piano strategico insieme in modo tale che comunque ti spiegherò dalla A alla Z quali sono gli step. E questo è un corso che va bene veramente per chi non ha mai fatto una pianificazione strategica e anche per chi l'ha fatto. Perché comunque andiamo in profondità e andiamo veramente ad abbreviare. Andremo a vedere quali sono le regole della produttività che ci porteranno al raggiungimento di questi risultati di cui vi parlavo in modo rapido, più velocemente e andremo a vedere quali sono le strategie che si possono utilizzare per raggiungere, per aumentare il fatturato in modo tale che questo piano strategico sia comprensivo di queste strategie apposita in modo tale che questo seminario è un seminario pratico andrete a casa con quello che è un piano in una pagina perché lo consolideremo in una pagina sola. Andremo anche a fare una promozione su quello che è il vostro business insieme. E qui dico l'importanza di essere insieme per cui se hai un collega portalo perché comunque questo ti potrà aiutare ancora di più a raggiungere quelli che sono gli obiettivi aziendali e poi sarai comunque spronato e spronerai a tua volta questo collega. Non sono solo io a dire che il piano strategico annuale è qualche cosa di fondamentale infatti Harvard ha fatto uno studio studiato i risultati delle persone che pianificavano verso quelle che non pianificavano e chi pianifica ha il 60% di possibilità in più di essere una persona di successo. Se anche tu vuoi il tuo successo raggiungere il tuo successo nel 2019 e guardarti all'indietro a novembre, dicembre 2019 dire i miei risultati sono stati superiore a quello che io stesso volevo beh, questa è l'opportunità che fa per te e se non hai il tempo per una giornata hai un problema perché ti sto dicendo che con una giornata riesci a veramente fare il piano per un anno e quindi dovresti prendere e iscriverti immediatamente a questo. Ci sono dei posti limitati per cui iscriviti 16 di dicembre a Milano in una location veramente raggiungibile sia a livello di metropolitana sia a livello di aereo sia a livello di macchina c'è un ampio parcheggio per cui ti aspetto.